Leonardo Silva Reviso 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 Re L'impatto della pandemia non è più così devastante come lo era agli inizi, questo è grazie a una soluzione estremamente high-tech come sono i vaccini mRNA. Quello che voglio fare nei prossimi minuti assieme a voi è discutere tre cose. Qual è l'impatto sull'ambiente della produzione di alimenti? Quali sono le soluzioni che possiamo utilizzare per diminuire questo impatto? E infine quali sono gli ostacoli che si frappongono all'adozione di queste soluzioni? Partiamo da una semplice constatazione. Noi oggi stiamo utilizzando le risorse naturali del nostro pianeta in maniera non sostenibile, ossia stiamo consumando più risorse naturali di quanto queste risorse non siano capaci di auto-rigenerarsi. Ce lo dimostra in maniera formale l'equazione dell'impatto globale che mette a confronto l'impronta ecologica delle attività umane e la capacità rigenerativa della biosfera. Oggi questa impronta ecologica è pari a circa 1,6 volte la capacità della biosfera di rigenerarsi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che stiamo intaccando pesantemente il capitale di risorse naturali e che se continuiamo a farlo, e più continuiamo a farlo, più questa disuguaglianza tenderà ad aumentare. Come possiamo fare per cercare di portare queste equazioni in una situazione di uguaglianza in cui l'impronta ecologica è almeno pari alla capacità rigenerativa? Se guardate il termine a sinistra dell'equazione, è difficile pensare di agire sul fattore N che è la dimensione della popolazione globale, è altrettanto difficile pensare di agire sul fattore Y che è la nostra capacità di produrre beni e servizi, cioè ricchezza, perché sarebbe una scelta molto impopolare, possiamo agire sul fattore alfa che sta al denominatore. Il fattore alfa corrisponde all'efficienza con cui sfruttiamo le risorse naturali. Efficienza vuol dire scelte politiche e vuol dire soprattutto innovazione tecnologica. Al contrario di quello che tendiamo a pensare, produrre cibo per alimentarci è uno dei processi più costosi dal punto di vista ambientale. Noi tendiamo in genere a pensare ad altri processi, ad altre attività economiche come quelle più impattanti sull'ambiente. Le analisi ci dicono che il 34% di tutte le emissioni di gas serra sono dovute alla produzione di alimenti e di questo 34%, il 71%, è dovuta alle attività di produzione primaria, cioè alle sole attività agricole. Tutti i processi che stanno a valle, i processi di trasformazione, pesano solo per il restante 29%. Non sono solo le attività agricole in sé a pesare, sono anche i cosiddetti cambiamenti di uso del suolo, ossia il fatto che per produrre alimenti cambiamo la destinazione di suoli che erano occupati da ecosistemi naturali e li convertiamo in terreni agricoli. Non solo la produzione di alimenti impatta molto sull'ambiente, ma le analisi di sensibilità effettuate dagli economisti ci mostrano anche che produzione di cibo, scelte della dieta e politiche di uso del suolo sono i fattori agendo sui quali possiamo più facilmente andare a ridurre l'impatto ambientale delle attività umane. Questo non è una cosa intuitiva perché noi tendiamo a pensare ad altri settori come quelli dove dovremmo agire se vogliamo migliorare la nostra impronta ecologica. Pensiamo a efficientamento energetico degli edifici, pensiamo a uso di carburanti fossili, pensiamo all'attività manifatturiere. In realtà è agendo sull'agricoltura che potremo più facilmente riuscire a migliorare la situazione. Voglio farvi un esempio di come è cambiato l'uso del suolo nel corso del tempo. In questo grafico vedete quello che è successo negli ultimi 300 anni. Quello che si vede molto facilmente è che sono diminuite le aree occupate da foreste, occupate da pratterie, da savane, cioè da ecosistemi naturali e sono aumentate le aree occupate da terreni agricoli e pascoli. Per darvi alcuni numeri ed essere più precisi, vi basti pensare che dal 1980 al 2000 nei paesi tropicali, che sono quelli più ricchi di biodiversità, più ricchi di ecosistemi che dobbiamo a tutti i costi difendere, le superfici agricole sono aumentate di oltre 100 milioni di ettari, che è una superficie superiore a tre volte quella dell'Italia. Basti pensare che per alimentare gli animali domestici, che a tutti noi stanno così cari, viene utilizzato l'1% della superficie agricola mondiale, che è pari a 1,6 volte la superficie dell'Italia. Oppure che i soli allevamenti animali utilizzano il 77% della superficie agricola mondiale. Se poi vogliamo vedere gli impatti della produzione di alimenti sulla fauna, vi basti pensare che uomo e mammiferi che vengono usati per l'allevamento animale assommano al 96% della massa di tutti i mammiferi presenti sul pianeta e che, se guardiamo gli uccelli, il 70% degli uccelli presenti sul pianeta sono volatili d'allevamento. Voglio adesso spiegarvi come la produzione di cibo impatta dando un esempio molto concreto e molto vicino a noi, cioè discutere qual è l'impatto ambientale globale della produzione di un filone di pane. Quando facciamo questo tipo di analisi consideriamo l'impatto a partire dal momento in cui vengono seminati i semi di frumento fino al momento in cui il filone di pane arriva sulle nostre tavole. Ebbene, qualsiasi sia l'indicatore di impatto che noi utilizziamo e guardiamo, circa due terzi dell'impatto della produzione di pane sono dovuti alla sola produzione primaria, cioè dal momento in cui seminiamo al momento in cui raccogliamo. Solo un terzo è tutto quello che viene dopo. Trasformazione, catena di distribuzione, trasporto, fra l'altro per i fanatici del chilometro zero il trasporto pesa estremamente poco. Di questi due terzi di impatto dovuto alla produzione agricola, a loro volta due terzi, cioè il 45% dell'impatto globale è dovuto a un unico fattore e questa è la fertilizzazione azotata. Analisi di questo tipo sono estremamente importanti perché abbiamo bisogno di sapere quali sono i fattori che impattano di più perché andando ad agire su quei fattori che possiamo più facilmente diminuire l'impatto ambientale della produzione di alimenti. Ora, è evidente da quello che vi ho raccontato finora che noi dobbiamo riuscire a rendere più efficiente della produzione primaria. Dobbiamo cioè migliorare quel coefficiente alfa di cui abbiamo parlato prima per la produzione primaria e questo lo possiamo fare attraverso l'innovazione tecnologica. Volendo essere molto schematici, in agricoltura ci sono tre maniere per portare innovazione. Una è attraverso la genetica, attraverso il miglioramento genetico, andando a monificare geneticamente le piante animali che utilizziamo per alimentarci. Lo stiamo facendo da 10.000 anni e l'abbiamo fatto nel corso del tempo con metodi via via più efficienti e veloci. L'altra strada è la chimica, cioè attraverso l'utilizzo di fertilizzanti, di agrofarmaci, di erbicidi. E infine la terza strada è rappresentata dalle tecniche agronomiche. Ora, il dato storico ci dice che di questi tre fattori quello che ha aumentato di più produttività e sostenibilità dell'agricoltura è proprio la genetica, il miglioramento genetico. L'esempio migliore è dato dall'adozione degli ibridi di mais. A partire dal 1930, quando furono adottati per la prima volta, grazie agli ibridi di mais, la resa produttiva del mais è aumentata di oltre cinque volte. Oggi abbiamo, per il miglioramento genetico, a disposizione nuovi strumenti che lo rendono ancora più preciso e veloce. Questi nuovi strumenti ci sono forniti da un lato dagli avanzamenti tumultuosi della genomica che ha consentito non solo di sequenziare il nostro genoma ma anche di sequenziare i genomi di molte specie di interesse agricolo, di identificare tutti i geni presenti al loro interno e fra questi di identificare quelli che controllano le caratteristiche che a noi interessa migliorare. Dall'altro, dalla messa a punto di tecnologie che in Italia chiamiamo collettivamente tecnologie di evoluzione assistita o TEA come la cisgenesi o come soprattutto il genome editing tramite CRISPR-Cas che ci consente di andare a modificare in maniera mirata singoli geni o singole basi addirittura all'interno di questi geni ottenendo dei risultati che sono pressoché indistinguibili da quelli che potremmo ottenere per incrocio o che si potrebbero ottenere per mutazione spontanea. E utilizzando queste tecnologie noi possiamo cercare di andare a migliorare la resistenza ai patogeni, di andare a migliorare la tolleranza alla siccità, di andare a migliorare l'efficienza d'uso dei fertilizzanti e di andare a migliorare l'efficienza di utilizzo della radiazione solare nel processo fotosintetico. Grazie a ciò potremmo conciliare una maggiore sostenibilità senza dover diminuire la produttività. Non è la genetica l'unica strada per portare innovazione in agricoltura. L'altra tecnologia che porterà a una vera rivoluzione in campo agricolo è la cosiddetta agricoltura digitale o di precisione la quale attraverso l'utilizzo di una serie di tecniche agronomiche che si basano sull'innovazione digitale ci consentirà di meglio utilizzare i fattori produttivi come acqua come fertilizzanti e come agrofarmaci. Ora se queste sono le soluzioni quello che ci dobbiamo chiedere è quali sono attualmente gli ostacoli che si frappongono all'adozione di queste soluzioni e gli ostacoli non sono oggi di natura scientifica non sono neppure legati al processo di trasferimento tecnologico sono principalmente ostacoli di tipo sociale tradizionalmente la storia ci insegna che l'uomo è sempre stato refrattario all'introduzione di innovazioni tecnologiche se questo è stato vero nel corso della storia è ancora più vero oggi quando si parla di alimentazione e di agricoltura perché i consumatori quando si parla di alimentazione e agricoltura oggi sembrano molto più interessati a guardare indietro piuttosto che a guardare in avanti e sembrano avere una nostalgia per un passato che in realtà era molto meno rosio di quanto non si voglia ammettere un'alimentazione adeguata in un passato non troppo lontano era un lusso per pochi eppure oggi le scelte del consumatore vengono principalmente dettate da criteri quali naturale tradizionale piccolo e bello e via dicendo questa nostalgia per il passato è pericolosa perché se vogliamo tornare a fare quello che facevamo in passato potremo forse aumentare la sostenibilità per unità di superficie ma sicuramente diminuiremo la produttività e diminuiremo la sostenibilità se la misuriamo per unità di prodotte e finiremo con il far produrre ad altri quello che non vogliamo più produrre noi questa sarebbe ad esempio una delle conseguenze di una adozione su scala globale dell'agricoltura biologica la quale avendo al momento rese produttive sensibilmente inferiore all'agricoltura tradizionale comporterebbe un aumento delle superfici coltivate dal 40 al 65% fatto questo che certamente non ci possiamo permettere perché vorrebbe dire distruggere ecosistemi naturali e minacciare l'esistenza stessa della biodiversità presente sul nostro pianeta ma anche se queste scelte non venissero fatte su scala globale venissero fatte su scala locale come potrebbe ad esempio fare l'Unione Europea che potrebbe decidere che accetta una diminuzione di produzione in cambio di un aumento di sostenibilità dicevo queste scelte non sono scevre da impatti sugli altri perché se quello che non produciamo più noi lo facciamo produrre ad altri finisce che saranno questi altri a pagare il prezzo e sarà il pianeta a pagare un prezzo globalmente più elevato se questi a cui facciamo produrre le cose che non produciamo più noi lo fanno in maniera meno efficiente di quanto non lo potremmo fare noi è un'ingiustizia profonda che si va a sommare alle tante ingiustizie e disuguaglianze che sono presenti nel nostro pianeta già oggi come si vede da questo grafico i paesi più ricchi dove si concentrano i consumi in realtà stanno sfruttando le risorse naturali dei paesi più poveri che sono fra l'altro quelli più ricchi di risorse naturali e stanno intaccando il loro capitale dei risorse naturali senza in alcun modo ricompensarli per il fatto di avere rovinato il loro patrimonio naturale con le nostre scelte in campo di politica agricola noi rischiamo di peggiorare ancora la situazione perché se quello che non coltiviamo noi lo dovranno coltivare i paesi dell'Africa o dell'America Latina dove si concentra la biodiversità noi andremo a minacciare le loro risorse naturali che costituiscono il loro patrimonio più prezioso ma che sono anche un patrimonio molto prezioso per tutto il pianeta ora venendo a chiudere cosa possiamo fare per cercare di cambiare la situazione cercare di convincere i consumatori che l'innovazione in agricoltura serve ed è un fatto positivo dobbiamo spiegare che l'innovazione tecnologica e la scienza ci possono permettere di far stare assieme termini che sembrano antitetici ci possono permettere di combinare produttività e sostenibilità ci possono permettere di conciliare innovazione e tradizione ci possono permettere di conciliare innovazione e diversificazione agricola ed alimentare e ci possono aiutare a ridurre quelle diseguaglianze economiche e sociali che sono un problema enorme del nostro pianeta che si assomma al cambiamento climatico alla perita di biodiversità abbiamo bisogno di un approccio flessibile non dobbiamo essere dogmatici dobbiamo stabilire un nuovo patto basato sulla fiducia reciproca fra scienziati agricoltori e consumatori spero con questo breve discorso di avervi convinti che l'agricoltura è molto più complessa della rocket science è un problema complesso che richiede una soluzione molto complessa e in questa soluzione un ruolo decisivo hanno le nostre scelte individuali che devono essere dettate da razionalità e scienza non da emotività e ideologia facciamo scelte logiche e non ideologiche per cercare di salvare il nostro pianeta grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti